bene bentornati sub in sapiens siamo qui con un altro dialogo tra me gianandrea giacoma e gianluca bocchi e proseguiamo riflettendo oggi su uno dei temi centrali che è stato toccato da gianluca come in particolare come la modernità sotto l'effetto della rivoluzione scientifica ha innescato una profonda revisione dei fondamenti della conoscenza allora la mia domanda è questa oggi nel 2024 a luce di tutte le nuove conoscenze e la possibilità anche storica di vedere luci e ombre del passato come possiamo quali sono qual è lo stato dell'arte dei fondamenti della conoscenza quantomeno in occidente oggi come possiamo approcciare questo tema oggi ma direi che il modo più semplice ma anche più radicale di accostarsi a questo tema e di farsi la domanda perché servono i fondamenti della conoscenza no per quale motivo allora una cosa che noi possiamo dire è che senz'altro ci sono aspetti teorici importanti ma questi sono degli aspetti più del lì perché la ricerca dei fondamenti della conoscenza in primo luogo ha una funzione pragmatica no come possiamo pensare di che le nostre visioni e le nostre azioni trovino una conferma nel mondo no e quindi uno potrebbe dire va bene quindi c'è un'idea locale per cui se le nostre visioni e le nostre azioni hanno dal modo un feedback positivo allora vuol dire che pragmaticamente questi fondamenti ci sono ovviamente perché la cosa regge poco e si deve un pochino estendere no il discorso anche chi non è così impegnato a livello teorico perché il mondo non sempre ci conferma tante volte ci incanna no e allora c'è una crisi di incertezza che ci dice insomma come possiamo fidarci della della nostra relazione col mondo no allora detto questo qual è il grande cambiamento che è avvenuto nel corso di un secolo ma di cui si è abbastanza come direi consapevole oggi che i fondamenti non sono assoluti ma sono legati di volta in volta eh agli obiettivi che abbiamo per la nostra conoscenza no poi mh c'è stata una metafora eh che che forse non esprime del tutto quello che sto dicendo io ma che è significativa eh di Popper sulla fatto lui parlava della scienza naturalmente poi si può parlare della conoscenza è costruita su palafitte cioè sul fatto che eh come dire i nostri fondamenti ci sono ma non sono così granitici così assoluti come eh noi pensiamo quello che voglio dire io ma che eh è un elemento chiave di chi ha studiato il problema anche rispetto alla complessità e a cose del genere è che noi non operiamo oggi eh dando un fondamento globale a tutta la conoscenza ma quando facciamo delle operazioni cognitive diamo per non problematico un aspetto della conoscenza che chiamiamo di sfondo e poi operando invece per quello che noi vogliamo trovare ci fondiamo su questa parte delle conoscenze che in quel momento è considerata eh appunto una base per poi avere delle nuove realizzazioni esempio banale quando noi diciamo che una stella un pianeta particolare lontano 50 anni luce no? Noi facciamo delle operazioni di misurazione sia matematiche ma poi la traduzione magari dei segnali del telescopio in in vari eh modi espressivi diciamo così però quando noi facciamo questo ci fidiamo delle teorie fisiche che dicono che la velocità della luce almeno nella nostra età è invariante ed è quella cosa lì ci fidiamo di certe conoscenze sugli spettri stellari ci fidiamo del fatto comunque l'ottica la fisica su cui è basato il telescopio che di volta in volta utilizziamo sia comprovata eh e quindi ci fidiamo di tante assunzioni tecnologiche e scientifiche no? Non è detto anzi è necessario no? Eh che queste stesse assunzioni in altri ambiti e in altri obiettivi vengano messi in discussione nel senso che eh noi possiamo anche mettere in discussione che la velocità della luce è invariante per esempio ci sono delle teorie abbastanza eh creativi e marginali ma che non è detto che siano sbagliate che dicono che siccome è possibile che le leggi fisiche evolvano col tempo può essere che anche la velocità della luce evolve col tempo e così via. Allora questa è una situazione no? Che dicono come metafora di bootstrapping cioè di tirarsi su caduti in terra coi lacci delle proprie scarpe. Cosa vuol dire? Che i fondamenti della conoscenza umana non hanno uno zoccolo assoluto ma invece hanno un'operazione eh fondamenti reciproci nel loro nella loro interazione cioè una parte del tutto fonda l'altra e viceversa in rapporti molto costruttivi e creativi ecco. Quindi l'interdipendenza l'interdipendenza. Quindi un discorso di coerenza e non di corrispondenza con qualcosa di esterno no? E io credo che questa sia una risposta come dire programmatica molto valida che è arrivata no? Nel corso eh della consapevolezza degli ultimi decenni. Poi c'è da aprire un altro discorso che è coerente con questo no? Che a fine conti quello che dà un po' di senso a tutto questo discorso che lo rafforza sta nell'idea eh che i fondamenti della conoscenza stessa umana stanno nei limiti stessi della conoscenza umana. Cioè nell'incarnazione o incorporazione o embodiment che noi sottolineiamo e che abbiamo fatto come un filo conduttore del nostro discorso come via d'uscita dalle astrazioni della modernità. Cioè eh la nostra conoscenza è fondata sul nostro essere biologico neurologico corporeo sulla nostra parzialità e in questo senso i nostri limiti sono anche i nostri fondamenti no? Adesso questo tema è interessante che è tornato eh eh dalla in avanguardia no? Perché stiamo celebrando i 300 anni di Kant e alla luce di quello che dicono le neuroscienze no? In un certo e e anche tutto il dibattito sull'embodiment no? Eh in un certo senso Kant eh la proposta di Kant è stata rivitalizzata. Adesso noi non non andiamo nei dettagli no? Però tutto sommato Kant viene considerato un precursore del della fondazione sul sulle nostre particolarità, sul nostro embodiment della conoscenza e quindi limiti e possibilità fanno tutt'uno da questo punto di vista no? È un aspetto molto interessante no? Un esempio che forse abbiamo già fatto ma è giusto che i nostri interventi sono un po' a rete no? Cioè noi ci chiediamo cos'è il tempo in ambito fisico, l'entropia, la negentropia ed è una ricerca interessante no? Però se seguiamo il percorso che va da canta alle neuroscienze noi ci diciamo che a prescindere da quello che noi possiamo dire sul tempo eh dell'universo che è una domanda sempre filtrata da noi ma sensata e a prescindere anche da quello che possiamo dire sul tempo eh che abbiamo costruito noi socialmente degli orologi perché anche questa è una costruzione sociale che magari ha a che fare col tempo fisico ma insomma non è così banale. Il punto centrale della nostra conoscenza è il senso del tempo che noi abbiamo dal punto di vista neurologico. Il tempo come durata che quindi non ha per esempio una differenza radicale è che il tempo come durata eh non ha tutti gli istanti sovrapponibili agli altri. Il tempo dell'orologio sì ogni istante vale l'auto ma chiunque vive delle esperienze psicologiche si rende conto no? Che ci sono accelerazioni e rallentamenti del tempo no? Allora qual è il senso della rivoluzione copernicana di di Kant riletto alla luce delle neuroscienze no? Che eh comunque lo vogliamo il senso del tempo interno eh una nostra modalità neurologica di essere nel mondo è primario e riducibile. Poi se vogliamo lo orientiamo anche in relazione con l'entropia dell'universo ma questo è un discorso che viene fuori dopo. Noi non possiamo dissolvere il senso del tempo interiore eh in qualche tempo fisico perché il senso del tempo interiore appunto come diceva Kant con la rivoluzione copernicana è il nostro modo biologico di accostarsi al mondo no? È interessante che Kant ha avuto questa intuizioni prima degli sviluppi biologici e neurologici forse solo adesso noi lo possiamo capire eh bene da questo punto di vista no? Allora come sempre ci sono delle cose molto interessanti no? Eh queste piste di sviluppo no? Vuol dire che i centenari le ricorrenze servono. Adesso è uscito un libro libro eh se eh poi avete pazienza magari vi do le indicazioni perché non non l'ho guardato prima comunque di un autore americano che è filosofo ma è anche esperto di letteratura tra l'altro è un esperto notevole di Cervantes no? Questo per aprire un discorso che facciamo noi che è molto popolare che magari facciamo un'altra volta ma che eh è presente sul web no? Cioè il manifesto degli ibridi no? Nel senso che tante innovazioni vengono fuori eh appunto da non direi dai generalisti ma da chi trasgredisce i confini disciplinari quindi questo è un letterato ed è un filosofo e lui ha messo insieme per questo discorso che ci interessa cioè che le possibilità di conoscenza sono legate ai nostri limiti biologici Kant Borges e Heisenberg come rappresentanti di questo nodo creativo tra limiti e fondamenti della conoscenza. Allora lasciando stare per il momento Borges che è interessante ma uno se la va a vedere sul libro c'è un'intuizione di Heisenberg che alla luce di quanto abbiamo detto sui due emisferi cerebrali è geniale no? E che è presente in un testo sulla realtà delle cose che è postumo che lui dice fondamentalmente noi abbiamo la convinzione che sia sensato dire che le particelle subatomiche abbiano un un preciso eh posizione un una una principia eh quantità di moto anche quando noi ne le misuriamo. La visione quantistica ci dice che no che non è vero no? Il principio di indeterminazione entra dentro ma lui dice perché abbiamo questa convinzione no? Eccetera eccetera. L'abbiamo perché il linguaggio ci presenta le particelle subatomiche come delle cose no? E quindi le cose macroscopiche sono dotate di queste proprietà dice ma questa molto probabilmente dipende lui dice dalle nostre modalità linguistiche no? Perché le nostre categorizzazioni funzionano così. Potrebbe essere invece avere degli aspetti di flusso di eh continuo eh diciamo movimento che non entra nelle nostre categorizzazioni linguistiche. Allora tradotto no? Nel linguaggio che noi facciamo dei due emisferi cerebrali e sapendo che l'emisfero sinistra è quello che si basa fondamentalmente sulla categorizzazione eh insomma fonda fondamentalmente la categorizzazione molte modalità linguistiche no? Ci rendiamo conto no? Che da questo punto di vista eh appunto quello su cui noi sottolineiamo ancora che la nostra conoscenza è eh sostanzialmente duale ed è fondata su eh due forme di di approccio no? di cui noi chiaramente Heisenberg ci dice eh ma guardate eh come dire eh la visione ingenua ha un approccio e invece la fisica quantistica ce n'è un altro no? Noi potremmo dire anche oggi che la fisica quantistica in realtà ha una base eh questa idea di flusso nell'emisfero destro del nostro cervello ma adesso è inutile a dire troppo no? Ma per dire quanto eh l'essere biologicamente condizionati eh condizionati vuol dire e anche eh e fondamentalmente l'apertura delle nostre possibilità al mondo no? Se è impossibile pensarci non biologicamente condizionati no? Saremmo degli angeli come dice l'autore di questo libro ma la conoscenza umana è umana e non è degli angeli non da questo punto di vista ecco credo che stiano venendo fuori quindi eh come dire un percorso molto lungo di di un secolo no? Eccetera eccetera stia dando delle domande risposte molto persuasive che sono interessanti anche perché sono pragmatiche e sono relative alla condizione umana cioè non sono legate appunto a un mondo eh ipotetico di di angeli di demoni o di conoscenze perfette ma invece eh indagano eh molto concretamente il nostro rapporto col mondo. molto interessante eh quindi provo a riassumerlo così eh tenendo conto proprio anche della natura circolare autopoietica del 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 nostro essere un sistema biologico e nel contempo cognitivo prendiamo atto che la nostra conoscenza è sempre relativa non nel senso di relativismo nichilista nel senso di fondata su delle opportunità e dei limiti storico contestuali biologici cognitivi culturali eccetera allora per fare usiamo il modello della scienza ma poi si può traslare anche in altri ambiti con giusto con i corretti aggiustamenti ci sono questi punti da tener conto nel nel formulare conoscenza nell'esplicitarla e renderla condivisibile uno è esplicitare i presupposti meta che possono essere metafisici o comunque metateorici esplicitare il punto di vista perché a parità di fenomeno che si sta indagandolo si può osservare da diversi punti di vista e bisogna esplicitarli non tenerli impliciti terzo cercare più possibile di esplicitare i limiti della conoscenza attuale rispetto a quel campo tra i limiti che si possono comprendere fino a quel momento neurologici cognitivi ma perché perché no anche tipologici ed emotivi e infine il tutto questo scriverlo in una forma come suggeriva popper falsificabile no come presupposto di destabilità e falsificabilità delle ipotesi proposte ecco che si mettono insieme tutti questi elementi che non sempre vengono messi in gioco quando si fa scienza e si fa conoscenza in generale si aumenta la probabilità quindi quelli che sono dei limiti in realtà diventano dei supporti per incrementare sull'orlo dei limiti del conoscibile quel pezzettino quel millimetro in più di approssimativa relativa conoscenza cosa ne dici certo e poi il discorso è che tutto questo funziona naturalmente no so che noi insomma in qualche modo con tutti dei buchi notevoli siamo installati abbastanza bene nell'universo e addirittura riusciamo a capire abbastanza bene il nostro posto nell'universo no però la cosa interessante è che questo discorso non porta mai all'esaurimento della conoscenza e non porta mai all'esaurimento del mistero no perché noi ci rendiamo conto per usare una delle metafore che vengono anche utilizzate che la conoscenza è un'isola che si espande ma non può per sua definizione la conoscenza umana ma quella di qualunque altra specie esaurire l'universo no perché c'è sempre una relatività del punto di vista no e ripeto proprio per questo no io mi occupo professionalmente queste cose ma siamo affascinati come esperimento mentale dalle capacità cognitive dell'altro dell'umano no allora noi sulla terra stiamo cercando di decifrare in maniera faticosa perché non è così banale no le capacità cognitive del polpo o delle piante ecco questo perché non hanno un sistema nervoso rispetto a quello dei mammini perché di capacità cognitive dello scimpanseo del gorilla o del delfino è già una sfida interessante dal punto di vista metodologico ma siamo vicini non tanto perché voglio dire non è che noi abbiamo fatto un certo tipo di esperienza nella biosfera loro è molto diversa quindi c'è già questa alterità poi spostandoci sul polpo le piante ci rendiamo conto no di questa non so questo discorso è anche popolare no perché avatar ha avuto così grande successo no al di là voglio dire degli aspetti filmici perché è interno a questo riferimento no delle capacità cognitive delle delle piante della biosfera no eccetera eccetera ma chiaramente se noi come dire adesso c'è c'è a livello ipotetico dell'astro biologia cognitiva no perché noi ci possiamo opporre il problema in maniera che non è falsificabile relativo alla nostra immaginazione ma che cosa vuol dire avere cognizioni alte con corpi altri su un pianeta alto eccetera eccetera chiaramente a livello cosmico questo allarga le nostre prospettive anche se poi concretamente magari dovranno passare millenni per avere un indizio da questo punto di vista forse non l'avremo mai ma non è importante questo punto di vista no eccetera eccetera è che noi non rinunciamo alla possibilità di conoscenza chiamiamolo dell'universo del cosmo del tutto ma lo possiamo fare con faticose triangolazioni e relazioni che partono sempre dal punto di partenza delle nostre modalità cognitive e poi cercano di allargare le nostre modalità cognitive nelle relazioni con l'altro da noi effettive cercando di comprendere come anche le conoscenze dell'altro da noi biologico non biologico siano strettamente condizionate dal loro stesso incorporazione noi non possiamo mai entrare nei panni del polpo o perché no nemmeno dell'intelligenza artificiale ma possiamo cercare dal nostro punto di vista di conoscere qualcosa di più quindi come diceva come diceva come diceva negel cosa vuol dire sentirsi un pipistrello no quindi non è un discorso da dire eh Kant diceva il fenomeno poi la cosa in sé no quando noi fondiamo una conoscenza diciamo fenomenica sul nostro essere poi si è bloccato a darci delle visioni aspetta Gianluca dobbiamo sempre avere l'idea che partiamo da noi ok c'è stato qualche secondo che ti senti ribloccato ok non hai ripreso a me sai cosa interessa molto anche a livello pragmatico nella quotidianità della propria vita nel rapporto con gli altri a lavoro nelle relazioni significative e nel rapporto con se stessi e che quei punti di una buona epistemologia di un buon fondamento della conoscenza no anche scientifica siamo partiti da lì siccome si possono estrapolare anche nell'ambito psicologico e relazionale con delle ricadute e poi anche magari nel mondo del lavoro no perché poi la capacità di collaborare con gli altri di essere chiari a se stessi e chiari nella relazione ha un impatto che può essere molte volte più del 50 per cento di quello che avviene nell'interazione con gli altri e allora quello di chiarire i propri presupposti e non tenerli scontati mentre noi tendiamo a tenerli scontati dico anche proprio nella quotidianità delle interpretazioni del mondo che ci circonda banalmente parlando con degli amici e con dei colleghi non esplicitiamo spesso il punto di vista e quante volte in riunioni intorno a progetti complessi ci sono professionisti con entrambi necessari con linguaggi però punti di vista sensibilità diverse e non c'è una mediazione tra i codici diversi un saggio atteggiamento di mettere comunque avanti i limiti delle proprie conoscenze attuali proprie prospettive dal punto di vista cognitivi essere consapevole dei propri bias più frequenti culturali caratteriali e infine il discorso del falsificabile è anche il modo in cui si comunica spesso lo si fa in modo apodittico si fa in modo che estremizza le polarità quando banalmente certe volte quando c'è un punto dubbio su cui non si è d'accordo basta porre la domanda in forma interrogativa ma se proprio d'accordo mi aiuti a capire invece di no ecco come queste cose che sembrano così alte così no della teoria della conoscenza scientifica no hanno tanto a che fare come funzioniamo anche nella quotidianità umana come professionisti come persone nelle relazioni significative cosa ne pensi di questa ricaduta poi anche psicologica è fondamentale perché come la conoscenza umana è limitata e non assoluta però è il punto di partenza di tutto così anche la conoscenza di un singolo individuo è parziale limitata e aperta agli altri però il punto di di partenza no quindi da un certo punto di vista noi abbiamo l'individuo è forte perché da un certo punto di vista il suo le sue forme di vedere il mondo è unica singolare ripetibile d'altra parte da solo non ce l'ha voglio dire e quindi in contesti collettivi di qualunque tipo sociali culturali poi noi sappiamo che la nostra specie non può che essere come dire sociale relazionale dobbiamo fare questo un gioco di costruzione di insiemi più ampi al quale noi operiamo però che non possiamo controllare cioè la comunicazione il lavorare insieme di collaborare in termini molto più generali è sempre un rischio perché i nostri punti di vista si sovrappongono ma mai completamente allora dato questa questa è la benedizione no perché noi certe cose le vediamo che le possiamo vedere solo noi e un altro non le può vedere ma dobbiamo sapere comuni se vogliamo che il punto di vista collettivo sia moltiplicativo dobbiamo poterle comunicare allora si devono poter sovrapporre le cose che abbiamo in comune e poi stimolare negli altri anche il rispetto o la comprensione delle cose che abbiamo scoperto anche noi no quindi la conoscenza di una collettività in linea di principio e moltiplicativa è più ampia di quella dei singoli individui però perché si arrivi a questo punto che purtroppo non sta avvenendo a livello planetario ma questo è un altro discorso forse anzi è giusto sperimentare quello che dici te nelle singole collettività di lavoro di convivenza piccole perché potremmo sviluppare anche dei modelli più globali di cittadinanza no allora noi dobbiamo come dire avere tutta un'etica della comunicazione che anche fondamentale per l'aspetto cognitivo cioè se noi vogliamo che la conoscenza di un gruppo sia più ampia creativa innovativa della somma delle conoscenze dei singoli partecipanti noi dobbiamo seguire appunto delle procedure che chiamerai etiche che usiamo etica in termine come dire da un certo punto di vista etimologico comportamentale rispetto agli altri no tutto questo non è così scontato no perché per esempio anche raccontare i nostri presupposti non è così banale dichiarare i nostri presupposti perché evidentemente qual è un grosso problema che tanti noi non siamo abituati a dichiarare i nostri presupposti e lo sappiamo esatto ma il problema più di fondo è che molte volte non siamo consapevoli dei nostri presupposti non sappiamo torniamo a quel discorso che ti è cavo a te no che la consapevolezza psicologica va totalmente al di là del discorso terapeutico che è importante e va anche totalmente al di là del discorso tecnico legato no la meditazione cioè non sappiamo che non è una tecnica la meditazione ma insomma cioè non c'è bisogno per avere questa capacità di autocomprensione di andare in terapia o di fare anche meditazione in senso preciso no dovrebbe essere una capacità di essere presente a se stessi proprio stimolata dalla sua necessità sociale qual è il problema che necessità sociale deve diventare cultura sì ma che è un percorso infinito perché ovviamente noi non potremmo mai essere consapevoli di tutti i nostri presupposti un altro ci può aiutare a tirarne fuori qualcuno deve diventare cultura come dici tu cioè non può essere soltanto l'emergenza lo era in parte sì poi oggi per esempio Montaigne perché Morenne è rascinato da Montaigne o da Pascal no quindi un una per la loro capacità di autoanalisi fondatrice di un discorso sull'umano no cioè per Montaigne o Pascal o per tanti umanisti o o per anche per il mondo classico con tutte le limitazioni no eh Seneca no so tirare fuori i propri presupposti era eh una parte centrale della vita della conoscenza no eh non non era messo in discussione insomma che c'era una scienza dell'uomo molto diversa da quella attuale ma che aveva eh con l'introspezione che introspezione vuol dire appunto anche autonarrazione narrazione agli altri capacità di di far emergere i propri presupposti no eh sarà a livello elitario sarà su presupposti del tutto diversi però funzionava insomma non a caso Moren la considera una componente fondamentale delle scienze dell'uomo ancora oggi no questo fatto certo e chiaramente questo ci dice che chiaramente la letteratura eh non è solo questo però la grande letteratura eh in un modo o nell'altro no è sempre anche legata a una posizione del modo in cui l'autore tira fuori i suoi presupposti sul mondo no e in fin dei conti anche eh tutte le nostre modalità di scrivere e di comunicare no dopo chiaro il paper scientifico ha levato questa dimensione ma non è un bene da un certo punto di vista l'ha levata rispetto a certe perché qual è il guaio del paper scientifico non dichiara i suoi presupposti no? Cioè o meglio li dichiara localmente ma perché va bene nel in quel gioco locale eh che dà per scontato che la comunità scientifica non ha bisogno no? Di di dichiarare eh i pochi presupposti dico pochi paradossalmente perché l'obiettivo è limitato su cui va d'accordo no? Però nell'attività l'attività umana non è un paper scientifico no? Noi quando lavoriamo insieme mettiamo e ripeto lavoriamo poi vale nei contesti sociali tiriamo fuori tutto un sacco di di nostri punti di vista che sono fondamentali ma che molte volte non sapevamo nemmeno di avere. Allora questo eh poi chiudiamo qui no? Però è un messaggio importante. Noi non dobbiamo arrivare alla trasparenza assoluta no? Perché esplicitarsi completamente è impossibile ma poi se noi cerchiamo di esplicitarsi completamente diventa frustrante diventa una patologia. Diciamo di avere eh andare avanti un pochino di più dato per scontato la nostra fallibilità in quei consigli etici no? Che che avevi già dato e che magari adesso puoi ripetere un momento se vuoi in chiusura. No eh quello che volevo mettere in chiusura è un po' legato a quello che stai dicendo è che sempre di più anche per esempio con l'embodied cognition con anche per esempio il lavoro di anche grandi ricercatori italiani come un Vittorio Gallese con neurone specchio e si sta rendendo conto oggi sempre di più come il nostro io, la nostra identità, quello già si sapeva, le credenze, le narrazioni ma anche il modo in cui conosciamo avviene all'interno di un contesto relazionale. Non esiste fuori da un contesto relazionale. Certo che c'è un corpo, c'è una mente con dei presupposti ma fuori dal contesto relazionale eh non emergono queste capacità cognitive e il primo regolatore di questa interazione tra potenzialità inespresse era un organizzatore biologico che poi diventa emotivo e poi solo in fondo diventa cognitivo e intellettivo come per secolo invece abbiamo messo al centro invece l'individuo, l'intelletto separato no? Ma anche banalmente il primo cognitivismo con la metafora computazionale della conoscenza che andava per inferenze no? Non per incarnazione reciproca. Ecco tutte queste conoscenze che abbiamo oggi recuperano alcune intuizioni come di Montagna, di Pascal, di Seneca come dicevi tu ma oggi abbiamo una quantità di conoscenza per fondarle, non solo per fondarle scientificamente ma anche per sviluppare degli strumenti pragmatici dove per esempio nel campo psicoterapeutico si stanno rivoluzionando tante cose come il recupero del corpo e non c'è il tempo di essere approfondire ma anche un approccio a un nuovo modello di management e di modo di essere team e di collaborare no? Su questo magari ci torneremo su. Rifondato su un nuovo presupposto della conoscenza, un modo nuovo di conoscere e di creare conoscenza di una dimensione che è sempre relazionata, no? È un qualche cosa di straordinariamente interessante e direi che nei prossimi dialoghi potremmo più tornarci su in modo più specifico su questi temi. Allora io chiudo su una cosa importantissima che abbiamo dato per scontato in tutto il percorso ma che non c'è cognitivo senza emozione. Cioè questo è un altro aspetto fondamentale perché poi l'emozione ha tante variazioni, noi possiamo parlare anche di stile o parlare addirittura di metafisica ma voglio dire non c'è mai contenuti cognitivi neutri. Questo è un altro aspetto che ovviamente è basilare che emerge da tutto il discorso che abbiamo fatto sulla critica alla modernità ma che è giusto poi in questo momento di creare un accento da questo punto di vista. Quindi lasciamo i nostri interlocutori con queste prospettive che riprenderemo. Che riprenderemo. E questo è affascinante. Grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.